Ciao a tutti, sono Marco Meoni. Il 23-24 luglio a Porto Recanati si terrà la seconda edizione del torneo Green Volley 4x4 misto. Quest'anno una grande novità. In collaborazione con Volleyball.it disputeremo un torneo nel torneo riservato alle tifoserie delle squadre di A1 e di A2. Vi aspettiamo numerosi! Grazie a tutti! Grazie! Grazie!